Allora Alessandro, ci troviamo da Alessandro Reciti, lo scoglietto, in incognito c'è anche la sorella, ciao, che già diventa rossa anche se non è inquadrata, perché è molto timida, ma è una grande venditrice insieme ad Alessandro che è qui ormai da tantissimo tempo. Siamo all'interno del punto vendita, si chiacchierava in merito a Suzuki, lui è felicissimo di vendere Suzuki, tra le altre cose proprio perché si cambia un sacco di motori, novità delle novità è anche un pochettino di usato Suzuki, cosa introvabile in questo momento. Lo diciamo, perché comunque i motori devono essere venduti. Alessandro, il tempo non ci assiste? No, per ora no, perché ti hai ritardato la tua avventura, ti sei fermata all'erba e domani è dato di nuovo scirocco. Scirocco serio tra le altre cose, al momento la tua tappa finisce lì e poi comincerà quando? Speriamo domenica, speriamo domenica perché veramente domani è una sciroccata molto forte, poi molla e quindi qualche prova è stata, come dire, la faremo più tardino, vediamo un attimino come siamo messi, dobbiamo spostare il gommone, metterlo in sicurezza giù all'ormeggio, insomma il lavoro non ci manca. No, da fare c'è, dobbiamo fare anche l'uscita, oggi no, domani non si sa, speriamo, se il tempo mola un attimino facciamoci un giro. Tra le altre cose c'è da dire che tu hai avuto soltanto adesso un minimo di tempo da dedicarmi, perché per fortuna, no, purtroppo, per fortuna, purtroppo per me, ma io mi trovo benissimo, la prima volta vengo all'isola d'Elba, lo ammetto, la prima volta a Portoferraio, insomma è veramente un posto magico, molto bello, poi hai mangiato bene ieri sera, ho mangiato benissimo, è importante perché si ricorda sempre un posto dove si va, come si mangia, se sei sfortunato è la fine, ma si mangia male, ho mangiato bene, la gente è molto accogliente, invitiamo tutti a venire da te allo scoglietto a Portoferraio, assolutamente, adesso ci sarà la coda per questi motori usati, ma che cosa c'hai? Volevo la lista di attesa, perché nuovi in questo momento, purtroppo Suzuki non ha motori come tanti altri, diciamo sono tutti combinati, anzi, forse Suzuki in questa fase è stata bella e ha tamponato meglio questa situazione, e sono stati furbi, hanno lavorato discretamente bene, ok, ciao a tutti, ciao!